Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in un video cazzeggio assoluto siamo su Agariro, un gioco che per me è stupidissimo ma vi dirò, ho cominciato a giocare e è diventata tipo una droga però non ho niente da fare, io vado e gioco su Agariro voglio fare questo video perché farò tre incontri chiamiamoli incontri io sfido, ovviamente dopo che ho posto questo video chiunque vuole accettare questa sfida, questa challenge a fare di meglio, cioè il meglio del mio punteggio giusto perché non ho un cazzo da fare io mi metto a giocare e a sfidare le persone a Agariro non so se fa un suono ragazzi io non ho tappetino, cioè sto giocando come a te a un certo punto sto coso va strano perché si muove strano, perché io sotto il mouse non ho niente cioè ho il mouse completamente libero e a un certo punto ho già sentito si è incantato e ora neanche si muove più bene, quindi oddio oddio il mouse è partito ragazzi ho il mouse che... oddio ho perso quasi subito se ne va un po' per i cazzi suoi mi sembra che è meglio giocare con l'altra mossa ok, gioco così sto giocando con il mossa del portatile non so se ci siamo capiti allora, allora, a quanto puntiggio sto? 42 scorro 42 vediamo un po' sto cazzo allora, mentre io gioco parliamo parliamo del mio canale del mio canale che sta andando male perché obiettivamente non so perché ho avuto un calo di tutto delle visualizzazioni dei minuti guardati di tutto, di tutto la gente non gli piace più i miei video non so perché, non ho cambiato niente cioè ho fatto sempre i miei video e oh, attenzione e stavo dicendo e insomma praticamente ragazzi questi video, niente non sono più guardati come mai? Non lo so io praticamente non so qual è il vostro problema o meglio cioè non so qual è il mio veramente perché evidentemente c'è qualcosa nei miei nuovi video che non vi piace ah, stai fermo Adam mi stai mangiando attenzioooon le maledizioni il primo è andato io scorro, scorro, scorro non si vede ah, non si vede qua dov'è? massimo 86 che è 86 86 lo scorro ok scorro è 86 quindi ragazzi il primo 86 segniamolo segniamolo queste cose istruzioni non serve no, niente sto guardando un foglio aspettate che prendo una penna prendo una penna e andiamo a segnare primo 86 vediamo perché può essere che faccio di me ma gli altri non servirà allora detto questo sto dicendo ragazzi quindi non so qual è il problema dei miei video recenti però insomma hanno avuto questi cali questi problemi quindi vedremo un po' di migliorare qualcosa non so bene scorro 27 ragazzi forse questo video sarà veramente breve che siamo all'ultima cosa all'ultima chance quindi diciamo che quindi dobbiamo migliorare senza ombra di dubbio il mio canale i miei video in qualche cosa ora chiedo ovviamente a chi mi segue sempre di condividere i miei video perché magari in realtà non è cambiato niente cioè non è che sono io che sono peggiorato o quant'altro ma vabbè ragazzi è perso o quant'altro ma semplicemente i miei video non vengono visti perché non sono abbastanza condivisi comunque ragazzi è così quanto è trovato questo video che ne so 5 minuti manco forse vabbè ragazzi i miei punteggi sono 86 27 e 19 sono veramente scarso ma ci colpa il mouse comunque io ci tengo a precisarlo ragazzi chi vuole accettare questa sfida lo scriva sotto poi faccia un video dove scrivi sfida da web libero e da carino sempre e vediamo chi farà di più il canale che perderà farà un video di sponsorizzazione per l'altro canale cioè se io perdo sponsorizzo chi mi ha sfidato in sostanza ecco questo è un video divertente attendo che qualcuno mi sfida alla prossima ragazzi